I lavori non sono ancora in partenza ma un importante passo avanti è stato fatto. Approvato dal Comune di Bassano un progetto esecutivo per la realizzazione di una rampa di accesso per persone con disabilità alla palestra della Scuola Media Vittorelli. Costo dell'intervento 35.000 euro. È un costo importante di 35.000 euro ma credo che valga la pena, in modo tale che i ragazzi portatori di disabilità possano accedere in tranquillità alla palestra, in entrata e anche in uscita. Credo sia una cosa importante per la nostra città. Su fronte sport sarà operativo in tempi strettissimi il protocollo che le società sportive dovranno sottoscrivere per l'utilizzo degli impianti e delle palestre comunali. Il protocollo riguarderà soprattutto l'accesso da parte degli utenti, l'atteggiamento e il comportamento a tenere dagli stessi ma in particolar modo la disinfezione e la pulizia dei locali e della palestra. Non saranno utilizzati assolutamente gli spogliatoi, solamente i bagni, ovviamente una persona alla volta. Il protocollo è stato supervisionato dal Servizio Eugiene dell'Ulse Pedemontana. Ogni associazione sarà responsabile della pulizia e disinfezione prima dell'attività. Al termine di ogni giornata sarà la SIS a operare un'ulteriore disinfezione. Grazie a tutti.